Buongiorno, sono Antonio Tomarazzo, sono responsabile per Sharp della divisione video professionale. Siamo all'interno dell'ultima tappa del roadshow in cui abbiamo presentato l'ultima carrellata di nuove soluzioni che più che prodotti Sharp, qui nello specifico vediamo uno dei monitor interattivi con un applicativo che lo rende fondamentalmente un catalogo per showroom di diverso tipo. Vediamo un'applicazione creata per un marchio di abbigliamento e in pratica il monitor si trasforma in un catalogo interattivo estremizzando potrebbe essere un vero e proprio negozio dove possiamo vedere tutte le referenze e la possibilità di scegliere anche prodotti non presenti sul punto vendita e passare alla cassa a pagare e definire il luogo della consegna. Accanto alle soluzioni di questo tipo che sono abbastanza contenute per dimensioni, parliamo di un monitor full led da 70 pollici, abbiamo anche presentato all'interno di questa sessione una soluzione video con 4 monitor che permette di avere un'installazione da 120 pollici, anche qui abbiamo una soluzione esclusiva ed unica, siamo 12 fornitori di soluzioni video da 700 cangiene su uno schermo da 60 pollici. In questo caso la soluzione touch viene gestita da una piantana che ripropone fondamentalmente le specifiche viste sul monitor da 70, in questo caso è la piantana che viene utilizzata come console di definizione dei contenuti. Grazie.